Ciao a tutte carissime amiche e benvenute nel nostro canale. Oggi vi raccontiamo una vincente storia di amore, ricatti e liberazione. Nian, come sapete bene, sta vivendo anni di prigionia emotiva e psicologica, costretta a sposare Emir sotto la minaccia di terribili rivelazioni. Emir ha usato ogni mezzo per controllarla, dal ricatto sulla morte del fratello Ozan alla minaccia di portarle via la figlia Denise. Ma ora, finalmente, Nian è libera. Grazie alla determinazione e all'amore di Kemal, è riuscita a spezzare le catene che la legavano a un matrimonio senza amore. Vi raccontiamo come. Ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nulla di questa sopa appassionante. Grazie. Cominciamo. Kemal mostra a Nian l'accordo di divorzio, con la firma di Emir impressa con inchiostro indelebile. Questo documento rappresenta non solo una liberazione legale, ma anche simbolica per Nian, una svolta tanto attesa nella sua vita. Nella seconda stagione di Endless Love, finalmente, Nian avrà la possibilità di dichiararsi una donna libera, priva delle catene di un matrimonio infelice. La determinazione di Kemal è palpabile mentre si imbarca in questa missione difficile. Far firmare l'accordo di divorzio a Emir, un uomo potente e orgoglioso, non sarà un compito semplice. Emir, con la sua natura ostinata e il desiderio di controllo, non si piegherà facilmente. Tuttavia, Kemal, con la sua astuzia e tenacia, ha preparato una serie di strategie ben orchestrate, pronte per essere messe in atto al momento giusto. Con una serie di mosse calcolate e qualche colpo di scena, Kemal riesce a portare Emir a firmare l'accordo. Questo risultato non è solo una vittoria legale, ma anche una prova della forza del suo amore per Nian. La firma di Emir sul documento è il coronamento di una battaglia lunga e ardua, ma finalmente, Kemal ottiene ciò che ha sempre desiderato. La possibilità di costruire un futuro insieme a Nian, liberi da ogni vincolo e pronti a vivere il loro amore senza ostacoli. La rovina della famiglia Kosquolu si dispiega in un drammatico crescendo di eventi, ognuno più devastante dell'altro. Emir si trova a vivere uno dei periodi più bui della sua vita, circondato da una serie di calamità che minano le fondamenta della sua esistenza. Il padre di Emir, Galip, è rinchiuso in carcere, accusato di tentato omicidio nei confronti di Leila e di gestione illecita di rifiuti radioattivi. Questo scandalo non solo distrugge la sua reputazione, ma getta un'ombra sinistra sull'intera famiglia. Nel frattempo, Asu, la sorella di Emir, è stata internata in un reparto psichiatrico a causa delle sue condizioni mentali sempre più instabili. La fragilità della sua mente ha finalmente ceduto sotto la pressione degli eventi, aggiungendo un ulteriore peso sulle spalle già gravate di Emir. La situazione finanziaria della holding Kosquolu non è migliore. L'azienda è sull'orlo della bancarotta, un colosso economico che vacilla sul precipizio dell'insolvenza. Emir è disperato, per salvare ciò che resta del suo impero. Ha bisogno di iniezioni di capitale, ma per ottenere i necessari finanziamenti, deve prima convocare il Consiglio di amministrazione. In una mossa disperata e crudele, Emir decide di usare ogni mezzo a sua disposizione per ottenere il controllo. Segrega Nyan, privandola della sua libertà, e la costringe a firmare una delega. Con questa firma, Emir spera di assicurarsi il potere delle azioni di Nyan durante il Consiglio di amministrazione, consolidando così il suo controllo sull'azienda. Nyan, costretta in una situazione impossibile, è un simbolo della lotta per il potere che domina la famiglia Kosquolu. Emir, determinato a non perdere tutto, è disposto a spingersi oltre ogni limite morale. La fine della famiglia Kosquolu si trasforma così in una tragica saga di avidità, potere e disperazione, dove ogni personaggio è intrappolato nelle proprie ambizioni e paure, portando a una discesa inesorabile verso la rovina. Il faccia a faccia tra Kemal e Emir si preannuncia come uno scontro epico, carico di tensione e determinazione. Emir, con la sua solita arroganza e sicurezza, è convinto di avere la vittoria in pugno, ignaro del piano ben congegnato di Kemal. Quest'ultimo, con una determinazione incrollabile, riesce a liberare Nyan, restituendole la libertà e il potere di azione che le erano stati strappati. Quando Nyan si presenta al Consiglio di amministrazione, la sorpresa di Emir è evidente. Il suo piano, meticolosamente orchestrato, si sgretola sotto i suoi occhi mentre Nyan manda all'aria ogni suo progetto. Nel mezzo di questa crisi, Emir si trova faccia a faccia con Kemal, il suo rivale eterno, in uno scontro decisivo. Kemal, con la calma di chi sa di avere il coltello dalla parte del manico, pone Emir di fronte a un ultimatum. Gli offre una scelta chiara. Se non vuole vedere la sua azienda cadere in rovina e finire in prigione, deve firmare l'accordo di divorzio con Nyan. La firma rappresenta non solo la fine del loro matrimonio, ma anche la fine del controllo oppressivo di Emir su Nyan. In cambio, Kemal garantisce che alcune banchi effettueranno i pagamenti necessari per salvare la holding Coscuolu dalla bancarotta. Emir, nonostante la situazione disperata, non sembra mostrare paura. La sua arroganza e il suo orgoglio gli impediscono di cedere facilmente. Tuttavia, Kemal è preparato. Rivela di avere ulteriori informazioni compromettenti su Emir, inclusi dettagli scottanti sul riciclaggio di denaro in una miniera illegale. Questa nuova rivelazione mette Emir spalle al muro, costringendolo a riconsiderare la sua posizione. Il confronto tra Kemal ed Emir diventa così un gioco di potere e strategia, in cui ogni mossa può determinare il destino non solo della loro rivalità, ma anche delle loro vite. La determinazione di Kemal di liberare Nyan e distruggere l'impero corrotto di Emir si scontra con l'orgoglio e la disperazione di quest'ultimo, creando una scena carica di suspense e drammaticità. Nyan è finalmente una donna libera. L'aria è densa di tensione quando Kemal, con uno sguardo determinato, si avvicina a Emir e gli pone un ultimatum. Scegli, il resto della tua fama o Nyan. Di fronte a questa scelta cruciale, Emir, seppur riluttante e con il cuore colmo di rabbia, firma l'accordo di divorzio. Mentre appone la sua firma, Emir alza lo sguardo e con un tono minaccioso dice, Sai che questo significa l'inizio di una guerra più grande? La prossima volta che firmerò qualcosa sarà con il tuo sangue. Ma queste parole non scalfiscono la determinazione di Kemal. Con il documento in mano, simbolo di una battaglia vinta, Kemal si dirige verso Nyan. Trovandola, il suo volto si illumina mentre le mostra l'accordo. Amore, finalmente sei libera. Le parole di Kemal sono cariche di emozione e speranza. Nyan, sopraffatta dalla gioia, sente le lacrime scendere sul suo viso. Ogni lacrima è un segno di liberazione, di un peso finalmente tolto dalle sue spalle. Con la voce tremante dall'emozione, Nyan abbraccia Kemal e dice, Ora, con Denise, siamo veramente una famiglia. Piccola, sappi che tuo padre ha fatto tutto questo per noi. Le parole di Nyan sono un tributo alla dedizione e al sacrificio di Kemal. Il loro amore ha superato ostacoli insormontabili. E ora, con la libertà finalmente raggiunta, possono guardare al futuro con speranza e gioia. La scena si conclude con un abbraccio familiare, simbolo di un nuovo inizio, di una vita finalmente libera dalle catene del passato. L'amore e la determinazione di Kemal hanno trionfato. E con Nyan e Denise al suo fianco, un nuovo capitolo può finalmente iniziare. La prigionia di Nyan giunge finalmente al termine, segnando la fine di un capitolo oscuro della sua vita. La giovane donna aveva inizialmente sposato Emir sotto la minaccia di una terribile rivelazione. Se non avesse accettato di diventare sua moglie, Emir avrebbe confessato alla polizia che suo fratello Ozan aveva ucciso una donna. Questa minaccia incombente aveva costretto Nyan a vivere in un matrimonio senza amore, dominato dalla paura e dal ricatto. Anche dopo la tragica morte di Ozan, la situazione di Nyan non era migliorata. Emir aveva trovato un nuovo mezzo per manipolarla e controllarla, la loro figlia Denise. Ogni volta che Nyan pensava di chiedere il divorzio, Emir la terrorizzava con la possibilità di portarle via la bambina. La vita di Nyan era diventata un incubo, una prigione dorata dalla quale sembrava impossibile fuggire. Ma ora, con l'accordo di divorzio finalmente firmato, sembra che la luce abbia iniziato a filtrare nell'oscurità. Nyan può respirare un sospiro di sollievo, sapendo che il suo incubo potrebbe essere finito. Tuttavia, la minaccia di Emir non è del tutto svanita. Il suo orgoglio ferito e la sua sete di vendetta non gli permetteranno di arrendersi facilmente. Anche se la prigionia di Nyan è terminata, la battaglia contro Emir è tutt'altro che finita. La risoluzione di questa vicenda lascia un senso di sollievo, ma anche di apprensione. Emir è un uomo determinato, e la sua sconfitta potrebbe solo alimentare il suo desiderio di rivalsa. Nyan e Kemal devono rimanere vigili, pronti a difendere la loro libertà e la loro famiglia da qualsiasi nuovo tentativo di Emir di riprendere il controllo. La liberazione di Nyan rappresenta una vittoria importante, ma è anche l'inizio di una nuova fase della loro lotta. Insieme, Nyan e Kemal affronteranno qualsiasi ostacolo si presenti, determinati a proteggere la loro felicità e il futuro della loro famiglia. Grazie per aver guardato il nostro video. La storia di Nyan. Kemal e Emir è un viaggio intenso tra amore, coraggio e riscatto. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa incredibile vicenda. Hai mai vissuto una situazione simile? Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per rimanere aggiornate sui nostri prossimi video. Abbiamo tante altre storie emozionanti da raccontare. Grazie per il vostro supporto. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per aver guardato il video.